Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati da Marco Fabriani, eccoci in diretta anche oggi, un buongiorno, oggi è una giornata un po' uggiosa, un po' solare, va bene ragazzi, il tempo è quello che è. Saluto subito l'assessora al Comune di Roma, Roma Capitale, assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, assessora buongiorno e bentrovata. Buongiorno a voi, grazie. Allora, c'è una sorta di rivoluzione all'interno del sistema digitale di Roma Capitale, l'agenda digitale di Roma Capitale, adesso ce lo spiegherà bene la nostra assessora. Perché? Perché ci sono dei servizi importanti per i cittadini, oggi si può utilizzare questa agenda digitale, ma questa sorta di Roma Semplice con servizi digitali direttamente dal proprio pc, non bisogna fare più file, code, prendersi i permessi sul posto di lavoro e questa è una cosa importantissima e bellissima. È vero, assessora? È vero e lo sarà sempre di più ovviamente, nel senso che abbiamo appena iniziato, però siamo partiti, siamo partiti con appunto l'agenda digitale, come diceva lei, giustamente, che sono più delle linee di indirizzo in cui vogliamo mettere nero su bianco, che cosa faremo, entro quando lo faremo, in maniera che i cittadini ci possano anche controllare. Quello l'hai fatto, hai detto che lo facevi entro giugno, come mai non l'hai fatto ancora, quando lo farai, quindi i tempi e gli indicatori in cui ci possano misurare, proprio perché la trasparenza è una delle parole che ci piace di più. Quindi l'agenda digitale ha questi obiettivi, la trasparenza dell'amministrazione, permettere a tutti di poter accedere almeno alle informazioni, ovviamente, grazie ai siti, alle tecnologie, ma anche partecipare, perché devono poter dire la loro e gli metteremo a disposizione degli strumenti per poter dire la loro, commentare, aggiungere, reclamare, suggerire, perché no, e i servizi, i servizi pubblici digitali, come per esempio il sistema pubblico di identità digitale, che è uno strumento per poter accedere in maniera unica e semplice, non solo ai servizi di Roma Capitale, ma anche ai servizi di tutta la pubblica amministrazione italiana. Che bello, che bello, Roma città aperta dal punto di vista proprio, come dire, dell'agenda digitale, potremmo dire, una città aperta, perché lì ci si può veramente trovare di tutto, dai servizi ai cittadini, alle curiosità, a quello che fa l'amministrazione, giusto? Esatto. I lavori, i tempi, le aperture. Non solo, ma esempi banali, uno iscrive il figlio a scuola, lo può fare online e si fa prima. Eh certo. Si fa prima, si fa meglio, può vedere la propria situazione. Questo non esclude il fatto che se una persona vuole può andare fisicamente, giusto? Sì e no. Ah, ecco, sì e no. Ma ci arriveremo dopo. Ci arriveremo dopo. Sì. Quindi è importante dunque, chi vuole iscrivere il proprio figlio a scuola può accedere. Lo fa online, lo tiene una serie di servizi. Abbiamo quasi 60, più di 60 servizi che sono online. Per esempio, il bono scuola che il 18enne ha diritto di prendere, sono 500 euro, lo può fare solo online, solo su Speed. Quindi è importante che noi li abbiamo messo. Uno si deve registrare. Si deve registrare sul portale. Ecco, si deve registrare. Deve andare sul portale del comune, immagino, no? Del comune, esattamente. Sul portale del comune, lì si deve registrare e poi automaticamente può accedere a tutti questi servizi. E lì sono elencati tutti. Adesso noi non possiamo elencare tutti i servizi perché altrimenti, no? No, sono quasi 70. Sono quasi 70, quindi automaticamente. Lì, una volta che si è registrati, si può vedere tutto quello che offre, diciamo, questa agenda digitale del comune di Roma. Nell'agenda digitale ci sono anche, per esempio, tutti i 15 municipi hanno la possibilità di fare la carta di identità elettronica, che è un altro strumento che ci permetterà di fare le cose più velocemente grazie alle tecnologie. Piccoli passi, ovviamente, non abbiamo ancora fatto la rivoluzione, però ci vuole il tempo e anche la parte di educazione, su cui anche su questa stiamo lavorando, perché le competenze digitali non ce l'hanno tutti i cittadini, quindi dobbiamo lavorare anche su quello. Certo, questo è importante. Certo, va detto. Mia mamma, per esempio, non ha, come dire, facilità con internet. Esattamente, ma abbiamo pensato anche a loro, non solo alle mamme, perché purtroppo ci sono anche i giovani che non tutti sanno andare in internet come dovrebbero. E in quei casi come si può fare? C'è una formazione? Sì, due cose abbiamo fatto. Il Punti Roma Facile, le abbiamo chiamate. Ne abbiamo per ora inaugurati solo due e a partire da domani ne augureremo degli altri. Nel prossimo mese ce ne saranno altri cinque e vorremmo aprirli in tutti i municipi, in tutte le biblioteche, in modo da poter far sì che io, che voglio scrivere mio figlio a scuola, ma non sono capace di farlo con le tecnologie, vado lì e trovo qualcuno che mi aiuta a farlo. Quindi la prima volta mi aiuterà a farlo, la seconda anche dalla terza in poi probabilmente lo saprò fare. Poi facciamo anche seminari gratuiti, anche questo, nelle biblioteche, nei municipi, proprio per aiutare le persone che hanno più difficoltà con le tecnologie a far sì che capiscano a cosa servono e imparino a utilizzarle. Quindi diciamo che adesso intanto si inizia, domani ci sarà questa inaugurazione proprio nella sede del terzo municipio di Roma, con il centro anziani anche, e poi a seguire invece ci saranno l'ottavo, l'undicesimo, il tredicesimo, il sesto, ovvero Portuense, Cornelli, Aurelio, Torbella Monaca, Garbatella, San Paolo. Esattamente, i primi due li abbiamo fatti a Marconi e a Vacheria Nardi. Invece domani nel terzo municipio, il terzo municipio se non sbaglio è Montesacro? Aiutatemi. Sì, esatto. Sono andato a braccio, quindi Montesacro. Quindi qui ecco c'è questa sorta di formazione che è importante, punti Roma facile. Non è solo formazione, è proprio che il ragazzo che dicevamo prima che deve avere il suo buono scuola e non è capace a farlo, l'aiutatemi. Io per esempio domani vengo lì, devo prendere il buono scuola e trovo lì un tutor che mi dà una mano. Esattamente, trovo un tutor. È carina questa cosa, è carina. Sì, è l'unico modo che abbiamo perché... E se domani si presenta a mezzarumma lì? Cioè tutto il quartiere di Montesacro ce la fate? Devo prenotarlo, devono prenotarlo il servizio. C'è sempre il numero 060606? Sì, certo, c'è ancora. Quello da tutte le notizie, vero? Certo, sì, sì, questo c'è ancora. Io dico chiamate quel numero, a volte è occupato oppure rispondono, ma c'è sempre qualcuno, rispondono, prima o poi rispondono. Comunque non è che se chiamate quel numero spendete chissà quanto, 060606, lì vi danno tutte le informazioni, è importante. Quindi domani se volete andare nel municipio, abbiamo anche la via dove domani si farà, nel terzo municipio di Roma, comunque c'è il numero 060606 e lì anche per chi non è capace di farlo c'è un assistente, un tutor che vi dà... È in via Fracchia 45. Ah, via Fracchia 45, perfetto. Domani mattina a che ora più o meno? È nel pomeriggio alle 5 mi pare, 4 e mezza, 4 e mezza, mi correggono. Quindi alle 16.30, via Fracchia 45. Sì, l'obiettivo è che tutti possano diventare cittadini digitali, perché le tecnologie sono uno strumento, quindi devono poterlo utilizzare. Poi uno quando ha capito come funziona, può insegnarlo poi anche ai genitori, agli altri amici, perché poi è una sorta di tantame. Questo è fondamentale, è bellissimo. Abbiamo fatto anche degli accordi con l'Agenzia per l'Italia Digitale che ci supporta e fanno formazione gratuita. Abbiamo fatto accordi con la Questura, perché c'è tutta la parte del bullismo in rete, della sicurezza in rete, su cui ci aiutano. Abbiamo fatto accordi con la privacy, il garante della privacy, perché la rete purtroppo a volte se uno pubblica cose che non dovrebbe... E quindi ci aiutano anche loro a fare seminari in questa direzione. Qui vi è all'interno anche tanta prevenzione. Ecco, non soltanto il servizio che si dà al cittadino, ma vi è anche la prevenzione, come dire, il rispetto per far crescere i ragazzi. Sì, utilizzare internet, utilizzare i social network, però fare attenzione sempre nel rispetto delle regole e del prossimo. I ragazzi sono bravissimi a utilizzare gli strumenti, ma spesso non hanno la consapevolezza dei rischi che corrono. E questo li aiutiamo a capirlo. Per esempio non dare dati personali, non dare coordinate, foto, perché la foto, io lo dico sempre, la foto che voi date, che vi fate oggi una foto con i tatuaggi, con i piercing, con quello che oggi è di moda, è normale. Poi fra 10, 15, 20 anni quelle foto rimangono in rete, la vostra vita cambia, chi vuole diventare un medico, magistrato, avvocato, ingegnere, professore, eccetera, eccetera, no? E poi vi ritrovate quelle foto che avete messo in rete, che vi ritraggono in atteggiamenti che non sono, come dire, simpatici, soprattutto perché poi le mode cambiano, cambiate anche voi la mentalità. E quindi oggi se avete 15 anni, vi fate la foto con i tatuaggi, la mettete in rete, poi fra 10 anni, fra 7 anni, 8 anni, andate all'università, chi vuole fare? Il medico, l'avvocato, l'ingegnere, il magistrato, il poliziotto, eccetera, eccetera. Quello che io dico sempre ai ragazzi, quello che dico sempre è che si devono ricordare che internet è una piazza mondiale, eterna, perché quello che io dico adesso qui, lo sentiamo in pochi, finisce lì, lo metto in rete, lo sanno potenzialmente 2 miliardi di persone, soprattutto per sempre, e questo è importante che lo sappiano, perché adesso lo pubblico e non è un problema, fra 10 anni, chissà, mi assumerà il mio datore di lavoro se ho pubblicato queste cose, forse no. Perché poi ci vuole un attimo, si va su internet e si vede il curriculum della persona, con Facebook e le foto, eccetera, eccetera, poi gli dicono sì, adesso ci stiamo pensando, poi faremo sapere per il posto di lavoro. Purtroppo funziona così, sicuramente tanti ragazzi con i tatuaggi, i piercing, che sono persone eccezionali, però fate attenzione, dico fate attenzione soltanto, cioè l'importante è che voi sappiate che poi queste foto rimangono, anche se poi vengono cancellate dal motore di ricerca, no? Però queste foto qualcuno le può scaricare e poi rimetterle in rete. Abbiamo già formato tra l'altro con questi seminari 340 persone, quindi cominciamo, ovviamente non sono tantissimi, gli romani sono molti di più, però si comincia, quindi anche con l'inaugurazione di domani, un servizio inizia dalla settimana successiva, ma ci si può prenotare e si comincia anche... Perché già in passato si era parlato di questi punti Roma Facile, no? Due ne abbiamo fatti, sì. Due punti che hanno avuto un grandissimo successo, prima di Natale, mi sembra. Sì, esatto. Prima di Natale, due punti che hanno avuto un grande successo dove tante persone... Perché poi che succede? Che chi lo vede, chi lo frequenta, lo vive, poi lo racconta anche ai suoi amici, no? Lo racconta ai suoi amici e dice che è comunque un mezzo innovativo, è importante. Sì, sì. Perché poi c'è questa sorta di pubblicità tra stessi cittadini. Certo, queste due biblioteche dove abbiamo iniziato sono state sperimentali, se vogliamo, perché servivano a noi per capire che cosa davvero i cittadini potevano chiederci. Magari noi proponevamo cose che loro invece non servivano, quindi abbiamo ascoltato, abbiamo concordato e capito insieme che cosa serve a Roma. Certo. E su questo stiamo lavorando dai successivi, appunto. È importante che poi la politica e i cittadini, no? Ci sia insieme questa collaborazione per capire anche che cosa chiedono i cittadini. Certo. E quindi automaticamente la politica deve cercare di dare quel servizio che è importante. Certo. Ecco, la prevenzione poi, soprattutto con i giovani, questo è fondamentale, perché i giovani di oggi sono poi gli anziani di un domani. Ma infatti noi come amministrazione abbiamo fatto sia della trasparenza che dell'ascolto, della partecipazione, una delle parole chiave su cui vogliamo intervenire. Per esempio c'è un bando europeo che chiedeva alle amministrazioni di partecipare su tre tematiche diverse. Non abbiamo scelto noi, abbiamo fatto scegliere i cittadini online, abbiamo messo online le tre possibilità sulle tre tematiche. I cittadini hanno votato e hanno scelto la tematica sulla mobilità, che era la tematica che i romani evidentemente sentivano con più pressione, con più importanza, e su quello faremo un progetto che presentiamo alla Commissione Europea. Speriamo di vincerlo, questo purtroppo non lo possiamo garantire, però abbiamo fatto scegliere ai romani su che cosa volevano che noi lavorassimo. Ecco, poi ricordiamoci che quando parliamo di Roma parliamo di una città che è complicata, complicata per la sua storia, complicata per il suo passato, complicata per come è stata amministrata in passato. Diciamolo francamente, oggi la città di Roma è una città bella, straordinaria, perché il suo fascino rimane, è fantastica, bellissima, sempre la più bella al mondo, nonostante sia stata ferita, nonostante sia stata picchiata, nonostante sia stata, come dire, anche offesa più di una volta. Roma rimane comunque Roma. Ma come diceva lei prima, giustamente, c'è bisogno di tutti, tutti noi. Ognuno ci deve mettere il suo pezzo. A me piacerebbe proprio una politica tutta unita, cioè destra e sinistra, Movimento 5 Stelle, tutti uniti per il bene comune, per cercare di... Cittadini, imprese, associazioni, tutti. Tutti, tutti, a livello nazionale, sarebbe il mio sogno. Qui non è più un problema di ideologie, qui è un problema di fare le cose, farle con serietà, ma tutti insieme, dove si può fare, senza, come dire, voli pindarici, quei voli pindarici che poi non sono possibili da attuare. Tutti insieme si potrebbe... Ma la stessa agenda digitale di cui parliamo l'abbiamo fatta in maniera partecipata, nel senso che noi abbiamo scritto un pezzo, poi l'abbiamo discusso con i municipi, i consiglieri, le associazioni, di persona, poi l'abbiamo messa online in maniera che chiunque per un mese potesse dire la sua, correggere, aggiungere, proporre. Le abbiamo ascoltate, recepite, inserite in una agenda digitale che è stata condivisa a questo punto, in maniera partecipata. Poi crediamo così tanto alla collaborazione che a partire da ottobre abbiamo fatto una cosa che abbiamo chiamato, mettiamo in comune l'innovazione, abbiamo chiamato gli innovatori di tutta Italia, i comuni e gli assessori all'innovazione di tutta Italia. C'erano 11 milioni di italiani rappresentati, quindi era un bel successo. Da lì è piaciuta a tutti ed erano appunto, come diceva lei, bianchi, rossi, verdi, tutti i colori, di tutti i colori. Si può fare, si può fare, si deve fare. E sono venuti e è diventata, è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di farla diventare un'attività permanente e itinerante, per cui ne abbiamo fatta poi un'altra a Bologna, un'altra a Reggio Calabria. La prossima la facciamo di nuovo qui a Roma il 20 di marzo e sarà su Speed, quindi il sistema pubblico di identità digitale e sulla casa digitale del cittadino, che è il punto dove il cittadino dovrà poter avere una propria pagina online in cui trova tutto di se stesso, le informazioni, quando gli scade la carta d'identità, pagare la multa, tutto di se stesso in una sua casa digitale. Che bello. Ecco, e questa è, come dire, e questa è la politica che poi si avvicina al cittadino. Io ricordo sempre che soltanto, pensate, prendiamo un municipio, quello di Ostia, è più grande di Firenze, forse tanti non lo sanno. Un po' meno, come territorio forse, ma come abitanti no. No, come abitanti no, ma come territorio enorme, è più grande di Firenze. Roma, il territorio di Roma è più grande di Milano. 11 volte quello di Parigi. Quello di Parigi. Come territorio. Come territorio, non parliamo di abitanti. E' enorme, enorme. Come abitanti ci supera Berlino, ci supera Londra. Ci supera Londra e poi basta. Londra. Forse anche Berlino. E' Berlino e poi basta in Europa. Però noi abbiamo un grandissimo territorio che è molto esteso, fuori dal grande raccordo anulare si arriva sotto ai castelli di Romani. Certo, quello che dico sempre quando vado in giro e parlo dei nostri 15 municipi, un municipio è Venezia, un municipio è Bari, un municipio è Reggio Calabria, un municipio è Parma. Sono enormi, sono tutte grandi città, di cui alcune città metropolitane. E noi ne abbiamo 15 nello stesso territorio. Però questo sistema digitale, questa agenda digitale, questo servizio dei punti Roma Facile, secondo me è come dire l'uomo di Colombo. perché si sta cambiando e si passa attraverso una stanza dove da quella stanza puoi accedere a tantissimi servizi e metterli in rete. Già il fatto di sapere tutto ciò che fa un'amministrazione in rete è importantissimo se poi addirittura tramite la rete, io ricordo sempre che bisogna essere registrati, è normale, quindi avrete un vostro PIN, i vostri dati sono riservati, un nome utente con la password, eccetera eccetera. E da lì potete accedere a tutto, ma soprattutto poi, come dire, avere dei servizi importanti. Un'altra cosa importante che credo, che a me, io sono convinta sia importante avere fatto, è quello che abbiamo chiamato Open ABC, dove open vuol dire aperto. La mia agenda è aperta, la mia agenda è online, chiunque sa dove sono, che cosa sto facendo, con chi sto incontrando e perché. È trasparenza, io non lo faccio per me, lo faccio per la città, quindi devono sapere i cittadini dove sono. È giusto, è giusto. Poi abbiamo fatto Open Bilanci, che cosa significa? Abbiamo messo online i bilanci degli ultimi dieci anni, quindi Veltroni 1, Veltroni 2, Marino, Alemanno. E uno guarda un attimo e si rende conto. Non solo i dati che sono a volte complessi da capire, perché un bilancio è difficile, ma sono dei grafici per cui uno ci clicca sopra e vede che l'amministrazione Alemanno ha speso di più o di meno dell'amministrazione Marino su quella voce di spesa. Gli ultimi dieci anni, ovviamente da qui in avanti, anche i nostri, quindi potranno anche confrontare chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, chi ha fatto meglio. Chi aveva più soldi, chi ne aveva meno, perché poi bisogna guardare anche quello che uno aveva in cassa. Bisogna dare anche dei giudizi con quello che uno è in cassa. Se uno vi invita a casa sua, vi presentate a casa sua, andate a casa sua, a cena, siete in dieci, quello che hai in cucina, si è mangiato male, non c'era, ho capito, questo c'era. Se poi vi invita una persona che comunque ha i soldi, è ricco, ha tutto quanto, avete mangiato male, e quindi sapete che comunque quella persona aveva gli alimenti, il cibo, eccetera, eccetera, e ha cucinato male, ha cucinato male. O se ha mangiato tutto lui, o ha cucinato male, decidete voi. Però ci piace anche allargarci e far riavere a Roma il suo ruolo che ha a livello nazionale e anche internazionale. Abbiamo fatto di recente un accordo con Barcellona su questo, perché Barcellona è una delle città più smart, davvero più intelligenti, se possiamo dirlo, d'Europa e non solo. Abbiamo fatto un accordo quadro in cui noi forniremo le nostre di competenze loro o le loro e lavoreremo insieme per fare prima e meglio. Perché no? Ci dobbiamo fermare. Io ringrazio l'assessora a Roma Semplice, l'assessora a Roma Semplice. Perché poi questa Roma Semplice avete messo l'assessorata a Roma Semplice? Proprio per semplificare il tutto. Perché la vita dovrebbe essere un po' più semplice. Le tecnologie possono complicarla, ma possono anche semplificarla. Quello che vorremmo fare è semplificarla. Semplificarla. Grazie all'assessora Flavia Marzano, al Comune di Roma, che è stata con noi. Tra poco si tornerà a parlare di calcio di Lazio. Io vi aspetto domani. Domani avremo un altro ospite, sempre a partire dalle 13.30. Domani parleremo di ambiente, parleremo di parchi, parleremo dei cinghiali, cinghiali che scendono nelle strade, ma non è soltanto a Roma, anche in altri posti. Perché? Perché negli anni questi cinghiali ci sono riprodotti, 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 riprodotti e oggi vediamo che cosa accade. domani avremo il presidente dei parchi di Roma, il commissario dei parchi di Roma, ho detto bene, che poi tra l'altro è stato anche il presidente di lega ambiente, Maurizio Gubbiotti. Grazie da Marco Fabriani, al domani.